Un programma a cura di Rohiminanda Nadas. Next is a class on the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 16th Chapter, Text No. 16, given by His Divine Grace, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded January 11, 1974 in Los Angeles, California. Om Namo Bhagavate Vāsudevāya, Om Namo Bhagavate Vāsudevāya, Om Namo Bhagavate Vāsudevāya, Om Namo Bhagavate Vāsudevāya, Saratya-parasada-sevana-sakya-dotya, Vīrāsanānugamana-stavana-pranāmān, Snigdhe-supāndu-sujagat-pranatimcha-viṣṇā, Bhaktim-karoti-nipatiścara-nāra-vindhe. Translation. Mahārāsa Parīkṣit heard that out of His causeless mercy, Lord Kṛṣṇa, or Viṣṇu, who is universally obeyed, rendered all kinds of service to the malleable sons of Pandu by accepting posts ranging from chariot driver to president to messenger, friend, night watchman, etc., according to the will of the Pandavas, obeying them like a servant, and offering obeisances like one younger in years. When he heard this, Mahārāsa Parīkṣit became overwhelmed with devotion to the lotus feet of the Lord. Traduzione. Mahārāsa Parīkṣit sentì che per la misericordia senza causa il signore Kṛṣṇa, o Viṣṇu, a cui obbedisce l'intero universo, rese tutti i tipi di servizio ai figli di Pandu, accettando il posto di guidatore di carro, o presenziando e prendendosi cura degli ospiti, o facendo il messaggero, oppure come amico o come guardia notturna, in accordo al desiderio dei Pandava, obbedì a loro come un servitore e offrì omaggi, proprio come se fosse uno dei più giovani di loro. e quando sentì questo, il Mahārāsa Parīkṣit diventò sopraffatto dalla devozione per i piedi di loto del Signore. Questo è lo scambio d'amore tra il Signore e i devoti. Non è che Kṛṣṇa, essendo la Suprema Personalità di Dio, lui è il Maestro, il Supremo, ma non possiamo calcolare il Supremo attraverso la nostra esperienza materiale. proprio come nella nostra esperienza materiale, vediamo che il Maestro è sempre Maestro, il Servitore è sempre Servitore. Ma nel mondo spirituale, a volte il Maestro è Servitore del Servitore, anche. Questo è chiamato assoluto, il Padrone e il Servitore. ma nel mondo spirituale non c'è una tale distinzione. Qualche volta il Servitore rende servizio al Signore e qualche volta il servizio è reso dal Maestro. Proprio come Kṛṣṇa, quando Lui giocava la parte con i Suoi amici di gioco, loro stavano giocando e nel giocare c'è chi vince e chi perde. Così, qualcuno dei suoi amici si diventava vittorioso, la sfida era che doveva portare la persona vittoriosa, doveva essere portata sulle spalle della persona che aveva perso. Questa era la sfida. Quindi, quando Kṛṣṇa fu sconfitto, gli altri ragazzi si ersero, salirono sulle spalle di Kṛṣṇa. E Kṛṣṇa dovete portarli. Sebbene Kṛṣṇa sia il Padrone, è diventato il Servitore. È come Kṛṣṇa, quando stava giocando la parte di un bambino, di figlio di Madre Yashoda, quando lei prese un bastone e disse Krishna, se diventi ancora molto birichino, allora vedi questo bastone? Krishna piangeva. E c'è un bellissimo verso nelle preghiere di Kunti. Il mondo intero ha paura di Kṛṣṇa e Kṛṣṇa ha paura del bastone di Madre Yashoda. Vedete, questo è Krishna. Questo è il mondo spirituale. Questo è il mondo spirituale. Quando Kṛṣṇa era un piccolo bambino e giocava, Nanda Maharaj, il padre di Kṛṣṇa, Yashoda e Nanda Maharaj erano il padre e la madre adottivi di Kṛṣṇa. I veri madri e padre erano Vasudeva e Devaki. So, Nanda Maharaj came within the house and saw little Kṛṣṇa. Yes, he was playing Nanda Maharaj's challenge, and Yashoda Mahi. Così Nanda Maharaj arrivò a casa e vide il piccolo Krishna. Sì, e lui stava giocando. Così Nanda Maharaj sfidò Yashoda Mahi e chiese Il tuo Krishna può fare qualche lavoro? Oh sì, perché no? He can do anything. Oh sì, perché no? Lui può fare tutto. Immediately, Yashoda Mata, Madra Yashoda, order Krishna Immediatamente Yashoda Mata, Madra Yashoda, ordinò Krishna Just carry the wooden slipper of your father and go there. Prendi le scarpe di legno di tuo padre e portagliele. Krishna immediately took the slipper on his head and brought it to Maharaj Nanda. Then, Nanda Maharaj said, Oh, your Krishna is very good. Come on, come on. Vieni, vieni, vieni. Questi sono i passatempi infantili di Krishna che sono stati, che hanno soddisfatto e hanno goduto il padre e la madre adottivi di Krishna. Perciò i saggi sono sorpresi che attività pie ha fatto questa Madra Yashoda così che Krishna sia completamente sotto il suo controllo. Completamente. Il supremo controllore Ishvara Paramah Krishna Krishna è il supremo controllore Ishvara Paramah Krishna Krishna è il supremo controllore. Non c'è nessuno che controlla Krishna. Krishna, il supremo Lord Govindam Adipurusham è l'origine personale chi può essere suo padre e madre. Così Krishna è il Signore Supremo Govindam Adipurusham Lui è la persona originale chi può essere suo padre o sua madre? Lui è il padre di tutti. È il padre supremo. Il Salvo Junishu Kuntiya Sambhavanti Murti Krishna dice in tutte le specie di vita in tutte le specie di vita per quante forme esistano io sono il padre che dà il seme a tutte loro. Quindi nessuno può essere il padre di Krishna. Nessuno può essere il controllore di Krishna. Nessuno può essere il maestro di Krishna. Krishna è il supremo. Matta paratarang nannyam Nessuno è superiore a me. Nessuno è superiore a me ma Lui accetta una posizione inferiore per amore. Ma Lui accetta una posizione inferiore per amore. Se amate Krishna i filosofi mayavadi sono molto desiderosi di diventare uno con Krishna immergersi nell'esistenza di Krishna questa è la loro perfezione. E la filosofia Vaishnava è che cosa c'è lì nel diventare uno con Krishna. Noi vogliamo diventare i padri di Krishna. questa è la filosofia di Krishna. Perché dovrei essere uno con mio figlio? Noi vogliamo diventare i padroni di Krishna proprio come le gopi. Le gopi si rivolgevano a Krishna con un linguaggio di rimprovero ma Krishna ne godeva. Questo è servizio a Krishna. Krishna tutti adorano Krishna come il supremo così qualche volta Krishna diventa disgustato. che vengono tutti qui a offrirmi semplicemente rispettosi omaggi. Nessuno viene a rimproverarmi. Quindi chi è che può castigare Krishna? i suoi devoti così il devoto che arriva alla posizione di castigare Krishna lui piace molto a Krishna. questa è la posizione di Krishna. Questa è la posizione di Krishna. Partha significa il figlio di Prita. Un altro nome di Kunti è Prita. Kunti's father's name e il nome del padre di Kunti era Prita. Quindi Kunti's name era Prita e quindi Arjuna's name era Partha e perché Krishna serve come il chariot driver di Krishna il suo altro nome è Partha Sarati. Quindi è un fatto che Dio non ha nessun nome. è un fatto che Dio non ha nessun nome. A volte alcuni filosofi dicono che Dio non ha nessun nome. Questo è un fatto. Ma allora perché Dio ha così tanti nomi? Questi nomi sono calcolati in accordo ai Suoi passatempi. Just like Krishna è known Devokinandana. Devokinandana. Perché Krishna è apparso come il figlio di Devokinandana. Grazie alle sue attività Krishna è conosciuto come Yashodanandana. Perché Krishna acted come il figlio di madre Yashoda Yashodanandana. Il suo nome è Yashodanandana. Yashodanandana. Il nome di Krishna è Radharaman. Poiché Krishna godette della compagnia di Radharani perciò il suo nome è Radharaman. Il nome di Krishna è Govinda. Poiché lui dà piacere perfino alle mucche allora il suo nome è Govinda. O Krishna dà piacere ai sensi di tutti perciò il suo nome è Govinda. Ci sono centinaia di migliaia di nomi di Krishna in realtà i suoi nomi sono calcolati in relazione ai suoi devoti. Questi sono i nomi di Krishna. E ci sono i nomi di Krishna in tutti i i i i i i i i i amongst human beings among demigods among plants among trees among animals among insects everywhere Krishna has his relationship So therefore the supreme name of the Lord is Krishna Krishna means all attract that is the meaning Krishna's name is this is the supreme name Krishna all attract he can attract everyone Krishna Krishna a name Krishna which means that attract everyone and he attract everyone so this statement that God has no name that is fact but he has got his name in relationship with his activities with devotees so this affirmation that God has names in relation to his devotees so Krishna was as Sarathy as it is stated here Sarathyam he acted as a chariot driver of Arjuna that for Krishna is Partha Sarathy so Krishna did all these things he acted as a chariot driver he acted as the president of the assembly not that he is eternally chariot driver eternally servant is the human being or the living entities eternally master that is there in Vaikuntha in the spiritual world there is equality with God and the living entities they enjoy on equal level but everyone knows that here is the supreme that is spiritual world when Krishna drives the chariot Arjuna does not forget that he is my chariot driver he knows that Krishna is supreme this is the world spiritual when Krishna agi come guidatore di carro Arjuna non si dimenticò che qui c'è il mio guidatore di carro lui sapeva che Krishna era il supremo but but he is so kind he has accepted the post of my chariot di carnet this is spiritual sense and sometimes by the influence of Yogamaya Krishna also forgets that he is the supreme personality of God and the devotee also forgets that he is eternal servant of Krishna that is the action of Yogamaya so this Krishna consciousness moment there are so many things to learn and when practically one learns everything not everything as far as possible and when a person impara tutto not tutto perché per quanto è possibile when arriva alla perfezione allora la sua posizione è Janma karma c'ha medivyam yo janati tat vata chiunque comprende a riguardo di Krishna il suo jamma cioè la sua nascita lui non ha padre ma accetta un padre perciò janma janma significa nascita quando c'è nascita allora ci deve essere un padre e una madre cosi quando Krishna prende nascita appare come figlio devono esserci un padre e una madre ma chi può essere suo padre e sua madre? i suoi devoti perché i suoi affari sono con i devoti con nessun altro quando lui vuole un padre e una madre i devoti devono essere un padre e una madre perfino quando lui vuole qualche nemico il devoto diventerà suo nemico che dire del padre e della madre perciò lui attrae tutti e come è attraente verso suo padre e sua madre similmente è attraente anche verso i piccoli vitelli l'avete visto i dipinti? Krishna li sta abbracciando non è che Krishna semplicemente abbraccia Radharani e le gopi lui abbraccia anche gli animali insignificanti i vitelli per questo lui è infinitamente affascinante e quando i vitelli vanno da Krishna come l'è scritto nel libro di Krishna ed è scritto nel libro di Krishna come le mucche e i vitelli avevano così tanta attrazione per Krishna questo è Vrindavana tutti sono attaccati a Krishna non importa se sia un uomo o un uomo o un pezzi o un'acqua o un animale o la terra o il figlio e che o un uomo Grazie. 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 Grazie.